Buongiorno Orchidea di Morosau, Orchidea di Medicina per l'Anima, il secondo libro Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, 562 pagine di Orchidee, a tre grandi pregi, costa poco e semplicissimo, l'ho scritto io, comprate lo oggetto e fate una buona recensione. Domenica ci sarà la mostra a Dasso, in provincia di Como, sul triangolo Lariano, la strada per andare a Bellagio. Ci va in mondo, ma ci vado anch'io, è solo domenica, anche perché mio padre era di Rezzago, il paese vicino a Dasso, e allora ci vado perché ho ancora diversi parenti lì, quelli che conosco sono quelli della mia età. Ci vediamo ogni tanto, sicuramente quando c'è qualche funerale. Vabbè, comunque domenica qui è chiusa, perché appunto andiamo via tutti e due. Allora, oggi voglio parlare delle Orchidee da caldo, temperato e fresco, perché c'è la persona che mi ha chiesto, voleva appunto delle miniature, ma da caldo. E noi da caldo non le teniamo più. Quando è venuta fuori la storia delle bollette, adesso qui che è andato della cifra astronomica, delle bollette della corrente e del riscaldamento, abbiamo deciso di eliminare tutte le piante da caldo, in modo da tenere quella temperato e fresco, perché con quella da caldo, con le falenopsie, bisogna tenere almeno 18 gradi come minima. Le teniamole in fondo, in mezzo andava intorno ai 15-16, in fondo intorno ai 12-13, che andava bene per quella da freddo. Adesso teniamo solo quella temperato e fresco, teniamo 15 gradi in cima, qui in mezzo intorno ai 13, in fondo intorno ai 10, e c'è un sacco di roba da temperato e fresco. Perché adesso non lo so come sarà questo inverno, perché se arriva il gas di regassificatori, sembra che costerà questo gas tra 5-10 volte di più di quello che si comprava, quello che arrivava dalla Russia. Perché il costo più caro è già in partenza. Poi ci sono delle perdite nella riequipazione e delle perdite ancora nella rigassificazione e nel trasporto costa tanto. E oltretutto il trasporto costa il doppio, perché queste navi con gas sono delle navi speciali che arrivano qui a scaricare il gas e poi tornano dietro vuoto. Per cui non hanno un peso di ritorno che possano portare qualcosa. C'era un vecchio floricontore di Varese che diceva che i soldi del riscaldamento sono tutti soldi che vanno in fumo. E' un ragionamento che non fa una piega, perché i soldi del riscaldamento vanno veramente in fumo. Adesso io ho tanti anni che non fumo più. Allora, ci sono un sacco di piante da temperato e fresco, noi quelle da caldo non le tenevamo più. E' stata una scelta, anche perché penso che se va avanti così con costi del riscaldamento, della corrente così, anche nelle case si terrà un po' più basso. Perché se ti vengono fuori delle bollette astronomiche, non so come saranno andando avanti. Comunque le piante da temperato e fresco sono l'infinità. Generalmente sono considerate piante da caldo quelle che vivono in zone tropicali a livello del mare fino a circa 800 metri di altezza. Ma però è tutto da verificare, perché dipende da posto all'alto. Da temperato dagli 800 metri fino ai 1800-2000 e da fresco quelle sopra. Però cambia molto secondo le località. Per esempio, io sono qui, siamo a Morosolo, comune di Chisago. Siamo la parete a sud della montagna che c'è qua dietro, che è il Sacromonte. Famoso perché c'è questo centrale del Sacromonte. Noi siamo circa 300 metri di altezza nella parete a sud. Dall'altra parte, nella parete della versante nord, i paesi che si sono di là, a Brinzio, alla Lasia, così, alla stessa altezza, è un clima molto diverso dal nostro, perché è seroso all'ombra. Vi ricordo, tanti anni fa c'era un grande appassionato di orchidei che si chiamava l'ingegner Fauder, che abitava in un posto fantastico sul Lago Maggiore, a Castelveccana. E lui era sulla montagna abbastanza repita che veniva lì, aveva questa vecchia casa qui sulla montagna, aveva costruito questa serra. Solo che c'era un problema. Lui, dato che c'è questa montagna, perché è il versante di Varese, è il versante a oriente, cioè il sole viene, però lì c'era la montagna, lui d'inverno non aveva mai sole. E una serra che non è il sole, non è controsenso, perché la serra sfrutta l'effetto serra d'inverno, quando c'è bisogno di riscaldamento, perché l'è fatto serra. E lui aveva fatto questa sera qui, poverino, però era in un posto che il sole cominciava a vederlo fine febbraio, inizio marzo, e cominciava a spuntare qualcosa di sole. Per cui, dipende anche dai posti dove si è. Lui era in un posto bellissimo, con un panorama fantastico, lì sul Lago Maggiore, che è il Lago Maggiore, essere vicino al Lago Maggiore, è un lago molto grande, che porta anche a un'atterrazione del clima, perché è un regolatore climatico. Però lui era in un posto che non prendeva mai sole d'inverno, che era un controcesso. Per cui, comunque, di orchidee da temperato e fresco ce ne sono tantissime, non teniamo più quello da caldo. Ok, a domani.